Dopo aver posticipato l'inizio dell'anno scolastico dall'11 al 16 settembre, ieri a Pomezzi ha finalmente aperto i battenti la nuova sede in via dei Castelli Romani della scuola secondaria di primo grado Marone. Lo storico plesso di via della tecnica sarà chiuso per due anni per lavori di adeguamento sismico. Non si chiude però un'epopea che aveva visto non poche difficoltà nel trovare una struttura alternativa adeguata, come quando l'amministrazione aveva individuato uno stabile che era stato poi definito rudere. I genitori degli studenti, infatti, esprimono non poche perplessità anche su questa sede. Abbiamo perplessità soprattutto relativamente alla sicurezza dei nostri ragazzi. Ci stanno le finestre che non si aprono totalmente. Eventuale possibilità che ci sia dell'amianto all'interno di questi due piani. Abbiamo allertato anche la ASA, abbiamo fatto un esposto. Noi siamo, perché siamo preoccupati? Perché non ci danno le informazioni necessarie per essere tranquilli. Poi c'è il problema dei parcheggi, anomali fatti in modo non corretto, con un'entrata opposta all'uscita. Perché non ha aperto l'11 settembre? Allora, l'11, noi l'abbiamo saputo alle 22 della sera precedente, a causa di un sopralluogo che non era andato a buon fine. Al momento ci sono dei lavori al suo interno? Ancora sì, i lavori perdureranno fino al 28. Ed è proprio qui che ci è avvenuto il dubbio sul fatto che forse non è stato fatto il rogito. Perché fino a che non c'è il fine lavori, sembrerebbe che dal preliminare non possa essere effettuato il rogito. La vostra paura è che i ragazzi sono all'interno di uno stabile che non appartiene al comune, quindi non sarebbero assicurati? Assolutamente sì. Il comune di Pomezzi ha risposto ai dubbi dei genitori. Il contratto preliminare è stato firmato l'11 settembre e il rogito avverrà entro fine settembre, dopo il collaudo definitivo, fa sapere Piazza Indipendenza. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di amianto, i valori misurati sono inferiori a quelli che sarebbero rinvenuti per strada. Il pavimento al secondo piano, che presentava delle possibili criticità, è stato confinato a norma con un nuovo pavimento, quello del piano superiore più recente ed è stato realizzato dopo la legge contro l'amianto. Le finestre verranno portate ad un'apertura maggiore. Nel frattempo verrà installato un impianto di ricambio d'aria in coincidenza con l'avvio degli impianti di riscaldamento. Inoltre, il piano di sicurezza, come previsto, è stato redato dalla scuola. Infine, il piano di viabilità è stato studiato dagli ingegneri dell'Ufficio Lavori Pubblici, tenendo conto tutte le criticità presenti anche in considerazione dell'accesso degli scuolabus. La polizia locale è presente quotidianamente al fine di garantire la sicurezza stradale, ha concluso il Comune di Pomezia.